Padre Graziano fu prontamente sospeso dall'incarico di vice parroco di Caraffello per conclamata inadeguatezza. Dopo la stangata in corte d'assisa religioso congolese condannato a 27 anni di carcere per l'omicidio di Guerrina Piscaia e l'occultamento del suo cadavere, arriva una dura nota da parte della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro. Il religioso fu infatti assegnato come vice parroco a Caraffello tra il 2013 e il 2014. La diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro ha poi rinnovato la propria vicinanza alla famiglia di Guerrina Piscaia, concludendo la nota con l'augurio che la giustizia possa portare ad una piena ricostruzione della verità e delle relative responsabilità. Da parte dell'avvocato Nicodemo Centile, parte civile per l'Associazione Penelope, arriva la richiesta di provvedimenti anche all'interno della chiesa. Deve essere sospeso immediatamente perché è giusto, così vogliono le cose, così ha voluto lui che non si è assolutamente aiutato. Intanto il frate non tornerà in carcere sino a sentenza definitiva. Per il religioso restano infatti in vigore gli arresti domiciliari, che sta scontando nel convento romano dell'ordine Premo Stratenze. Si è chiuso dunque il primo capitolo giudiziario del caso della scomparsa di Guerrina, proprio nel giorno in cui la donna avrebbe compiuto 52 anni. Il pensiere di commenti dei parenti in aula presenti alla lettura della sentenza erano tutti rivolti al figlio della donna scomparsa, Lorenzo Alessandrini. Lui ieri sera mi ha detto, zia facciamo gli auguri alla mamma domani? Sì, ho detto, glieli facciamo. Dico, la mamma dov'è ci sente? E lui mi fa, che non me l'aveva mai detto. Ma se la mamma è lassù, io ho capito che lui voleva dire. Se la mamma è lassù, glielo facciamo lo stesso, perché sente meglio che è diventato un angelo. Ah sì, zia, mi ha abbracciato, mi ha baciato.